ciao ciao a tutte ben ritrovati qui sul mio canale oggi video spacchettamento avon campagna numero 4 2017 ho deciso di cambiare impostazione di telecamera evitando appunto il mio volto un po per farvi un piacere perché non è che sia il massimo è un po perché in così i prodotti vengono visualizzati meglio parto subito con presentarvi ciò che ho preso ordinato perché sono tanti i prodotti che mi sono stati richiesti dalle mie clienti allora questo è il gel della linea nutra effect che serve praticamente per il lavaggio quotidiano e da praticamente un effetto come dice diciamo la scritta rinfrescante è proprio un gel questa è la confezione da 150 ml ed è ottimo come prodotto per l'uso quotidiano questa è una maschera che ho acquistato per cercare di utilizzarla nei miei avondei era in offerta per noi presentatrici e ho approfittato a 75 ml la confezione il profumo ottimo è un gel trasparente non so se riuscite a vederlo poi ho acquistato il profumo far away questa è da 50 ml purtroppo non ve lo posso sì se non erro non ve lo posso aprire a sì da 50 ml perché è per una cliente per cui non potrei aprirvi la confezione allora poi ci sarebbe il fondo finita no questo era un primer che era in offerta per noi presentatrici e veniva un costo irrisorio e ho approfittato per acquistarlo proprio per farmi una sorta di campionario e della lux e si mette si applica prima del trucco proprio come tranne per fare durare il procedo molto velocemente poi ho acquistato due deodoranti roll on uno del mio della mia profumazione preferita che mesmerize e l'altra incandescence e sono curiosa appunto di provarli questi sono miei personali poi mi sono trovata benissimo e l'ho riacquistato questo qui il diciamo il tonico astringente e l'ho acquistato proprio perché vorrei abbinarlo a questo che praticamente il trattamento all'argilla bianca che viene utilizzata proprio per fare una pulizia completa l'ho acquistato proprio per utilizzarle per le mie clienti quando faccio appunto delle dell'avonday e quindi delle pulizie del viso questi appunto voglio utilizzarli per loro per non ad uso personale appunto poi era in offerta questi due erano in offerta a 4 euro e ho approfittato prendendo appunto lo shampoo che all'argan si eccolo olio d'argan marocco olio marocco e da 250 ml non vi dico la profumazione perché fantastica purtroppo non potete vederlo non potete sentirlo appunto però vi assicuro che che ottima un'ottima profumazione e mi hanno detto riferito che questo tipo di shampoo è davvero buonissimo per il prezzo che l'ho pagato appunto due prodotti 4 euro credo che sia fantastico poi c'è la crema l'argilla bianca scusatemi aspetta questa è una maschera una maschera purtroppo sto da poco aiutatemi voi vediamo se riusciamo a leggere una maschera detergente viso per uso quotidiano ok va bene gaffo totale e da 125 ml e della linea appunto clear skin come questi sempre per il solito discorso proprio perché vorrei applicarli per fare la pulizia del viso che li metto li prendo ancora poi ci sarebbe il mascara questo è un waterproof potete vedere mascara resistente all'acqua e ha un effetto lifting una spazzolina molto bella sicuramente nel metterlo è bellissimo insomma come effetto il colore black come potete leggerlo e oltre al mascara ho preso anche ho preso anche oltre questo questo maschera ho preso anche questo della von true sono due tipi di di mascara diciamo due tipi di di spazzolini scusate il termine ho preso anche lo stick correttore questo è del color medium purtroppo non si possono aprire fatti vedere è oltre al color medium preso anche color fair spero che si dica così sono due correttori hanno una colorazione un po più chiara come potete vedere è un po più scura il medium è un po più scuro poi ci sarebbe due smalti ci sarebbero due smalti vediamo se riesco ad aprire questo che è stupendo mi piace un sacco questa colorazione ed è sherry jubilee che è un rosso un rosso bordo molto molto bello e poi c'è anche questo decadence è il colore stupendo guardate questo viola cangiante meraviglioso una meraviglia troppo bello troppo 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 bello poi ho preso ancora questo sempre in abbinamento alla nutra fx ho preso questo che è lo scrub delicato fantastico provato ragazze trovatelo anche voi perché è meraviglioso troppo 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 buono troppo buono davvero poi ci troviamo questo che è il duo purtroppo non ve lo posso aprire contorno occhi è fatto in praticamente nel cerchietto diviso a metà e fa un gel e una crema contorno occhi la confezione è da 2 da 10 ml per cui sono 20 ml in tutto e mi hanno detto che è veramente ottimo abbiamo ancora una crema mani fantastica all'olio d'argan da 100 ml questi sono prodotti che io acquisto per regalarle un po alle clienti che mi fanno gli ordini grandi poi abbiamo il fondotinta che è più questo qui fa di fondotinta con lo specchietto è una spugnetta ve l'ho già fatto vedere nell'altro video e una cliente me l'ha ordinato lo stesso colore è ottimo eccezionale lo consiglio a tutti faccio spazio poi ho preso ne ho presi due praticamente di fondotinta poi ho preso una cipria una cipria della colorazione se riesco ad aprirla allora è translucent e della color trend quelle sono la linea un po più economica però è sempre ottima niente ecco qua ci sono riusciti bellissima la confezione è stupenda nonostante sia il costo sia davvero irrisorio però è stupenda fa la spugnetta e la cipria ha la protezione la sua protezione molto molto carina la sua spugnetta fa da una parte in pelle da una parte la parte appunto utile per applicare la cipria poi abbiamo abbiamo la matita della mark nera praticamente questo è un eyeliner liquido infatti potete leggerlo qua se mette a fuoco eyeliner liquido mi hanno detto che è facial gel questo lo posso usare anzi no questo è proprio non è la matita proprio l'eyeliner che ha la doppia punta io ho acquistato anche la matita ecco perché mi sono confusa è proprio l'eyeliner che ha la doppia punta se vedete come i pennarelli quelli mi si spezza il dito non lo so che cosa succede praticamente ha un lato doppio e un lato sottile ok carino proprio carina questa e poi poi ho preso anche questo che è il fondotinta che va con tu vediamo se riesco a capirlo eccolo colore colore vediamo se c'è natural beige eccolo qua natural beige ok e poi ci sarebbero altre cose che ho acquistato ve le mostro subito metto un attimo in pausa eccomi allora una sciarpa stupenda questa qui floreale adesso non ricordo bene il nome speriamo che ci sia festival folk credo che sia il nome della sciarpa credo poi va bene c'è tutto il cartaceo ho riacquistato il Real Pears il profumo che io adoro in offerta per noi presentatrici li ho acquistato è da 50 ml una profumazione meravigliosa poi ho acquistato per una cliente questa la versione grande da 400 ml questa è la crema che si mette sotto la doccia praticamente e con le mandorle è molto nutriente appunto della nutra per cui non ha né allergeni né parabeni insomma è ottima per le pelli sensibili poi ho acquistato la forma XXL che è da 150 ml la footworks è praticamente un trattamento per i piedi molto secchi serve proprio per dare idratazione poi ancora sto andando molto velocemente questo è un profumo che era in offerta a un prezzo davvero irrisorio mi sa 3 euro allora Absolute si chiama ed era appunto in offerta per noi presentatrici l'ho acquistato in modo tale da fare regali o comunque farmi un piccolo campionario poi ancora smalti ve li faccio vedere questo è il French Tip Lilac e questo rosa molto molto carino un rosa antico e in più ci sarebbe anche quest'altro scusate se ogni tanto viene in mal di mare il Cosmic Blue che mi ha ordinato un bellissimo proprio bellissimo non so se la luce rende l'idea molto molto bello e me l'ha ordinato appunto la cliente e domani devo consegnare il tutto infatti sto facendo questo spacchettamento proprio per cercare di non perdermi nulla ho avuto in omaggio questo profumo Shenz & Sense al Bergamotto che vi dico ragazzo vi faccio vedere è uno spettacolo piccolino come cosa insomma come quantità da 30 ml questa è la scatola però ha una profumazione metti a fuoco una profumazione meravigliosa buono fresco estivo mi è piaciuto molto infatti ringrazio Lavon per questo bellissimo regalo poi ancora siamo addirittura d'arrivo questo era in offerta per noi presentatrici il discorso che vi facevo prima sempre per crearmi un piccolo un piccolo campionario ho preso questo guardate che bel packaging packaging non mi faccio vedere perché sono un mostro oggi è praticamente una piccola palette guardate che meraviglia stupendo stupendo veramente ha dei colori grigio perlato poi ha rosa un bronzo un bianco e un grigio scuro molto molto bello contentissima di averlo preso molto molto bello ed era un prezzo il risorio 4,50 euro per noi presentatrici ragazze se volete diventare presentatrici oppure comunque risparmiare fatelo perché veramente conviene pagare un profumo della quantità di 30 ml 3 euro neanche ai negozi di tutto mille voglio dire se voi siete interessate potete contattarmi io nel frattempo vi faccio ancora vedere i prodotti potete contattarmi tranquillamente anche qui ho una ragazza che ti saluto ciao Elena grazie per avermi dato felice e niente lei è diventata presentatrice comunque va gli acquisti solo per lei ed è molto contenta perché insomma ha risparmiato allora ho acquistato questo reggiseno per una cliente spero che si possa aprire ha un seno molto abbondante e una misura è la sesta doppia D infatti la coppa è enorme però vi dico che la qualità del pizzo è veramente favoloso è molto molto bello molto rifinito io che poi sono modellista so quali sono insomma i i tessuti e vi dico che vi assicuro che è molto molto bello davvero davvero non vedo l'ora di consegnarlo per vedere appunto l'effetto che fa ultimi tre prodotti e poi comunque vi ridico questa cosa ho preso questa matita è la matita vediamo della mark perché mi sono confusa con quella di prima allora praticamente eccola sì è un eyeliner e liner scusatemi oh che bello stupendo non sapevo che facesse i brillantini si mette a fuoco molto molto bello effetto bronzo cioè è nero ma ha un effetto bronzato ecco abbiamo fatto lo swatch di questo bellissimo prodotto della mark e il colore è sage shock sage shock le mie le mie insomma il mio modo di interpretare la lingua inglese non è proprio il massimo però va bene poi le ultime andiamo indirittura d'arrivo queste due matite questa è quella brillantinata dell'aventrue il colore è emerald glow non vi posso fare lo swatch perché praticamente per una cliente non vorrei darle un prodotto che sembra usato e poi l'ultimo prodotto è sempre una matita di quelle che si riavvitano acqua sparkle uguale a quella solo per questa verde acqua quella ecco vedete si mette a fuoco si è un azzurro che dà sul verde molto molto bello molto luminoso e la devo consegnare a una praticamente praticamente allora i prodotti sono finiti ho fatto un video più veloce della luce vi chiedo scusa per questo però ho sempre i minuti contati ma sono contenta di avervi fatto vedere il tutto e vi mando vi rimando al prossimo video se vi è piaciuto il video cliccate mi piace ma soprattutto se vi è scattato nella testolina di voler risparmiare con i prodotti Avon contattatemi perché c'è modo per potervi fare una bella tessera e risparmiare risparmiare davvero si risparmia e molto spesso si va anche a prendere dei prodotti e non pagarli proprio perché appunto se si fa la somma molto spesso si ottengono anche dei dei gran bel regali anche perché l'avon ti fa i regali suoi per le prime quattro campagne come potete vedere il prossimo che vi ho detto per le prime quattro campagne vi dà dei regali in più comunque il lo sconto è veramente eccezionale va bene ragazzi è stato un piacere scusatemi per questa velocissima esperienza vi mando vi rimando alla prossima un bacione ciao ciao a presto scrivetemi nei contatti nei commenti oppure a una mail paradiso eliana tutto in piccolo attaccato chiocciola gmail.com se volete diventare clienti privilegiati con uno sconto minimo del 20 per cento ciao